Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti fan di Nazuma Eleven e buona Pasqua. In questo breve video vi mostrerò come attivare correttamente le texture in italiano perché molti di voi stanno continuando ad avere problemi e a chiederlo nei commenti quindi voglio fare questo brevissimo video di modo che sia il più chiaro e semplice possibile e che tutti possiate giocare correttamente. Allora, dai file avrete scaricato questo archivio che contiene una cartella semplicemente una cartella con dentro tutte le texture in italiano e l'unica cosa che dovete fare è estrarre questo archivio nella cartella in cui il Dolphin possa leggere le texture personalizzate al posto di quelle all'interno del gioco. Allora, quindi ci sono due possibili path in cui questo avviene e dipende se avete scaricato il Dolphin eseguibile, l'avete installato sul PC o se avete scaricato la versione portabile e quindi avete tutto pacchettizzato insieme. Nel primo caso, probabilmente come me e molti di voi avranno fatto avete installato all'interno del computer direttamente il Dolphin e quindi avrete all'interno dell'installazione solo il comando per lanciare il Dolphin e quindi le configurazioni saranno in un altro path che è qui in Documenti, Dolphin Emulator, una cartella che crea in automatico lui una volta installato il Dolphin sul PC ed è proprio qui che dovete andare ad estrarre le texture quindi nel vostro computer Documenti, Dolphin Emulator andate in Load, andate in Texture ed è proprio qui che dovete mettere la cartella che si trova all'interno dell'archivio una volta messa qui il path è corretto e il Dolphin sa dove andare a leggere le texture in italiano ora l'unica cosa che manca da fare è di attivarle ve l'ho fatto già vedere in altri video ma una volta che avete aperto l'emulatore andate in Video, andate in Avanzate e dovete assicurarvi di spuntare Carica Texture Personalizzate in questo modo, dato che adesso sono nel path corretto il Dolphin andrà a leggere al posto quelle texture all'interno del gioco quelle personalizzate che ho tradotto io e quindi avrete tutti i menù e i giocatori che sono stati tradotti in italiano e basta, direi che questo è quanto spero che sia stato il più semplice possibile voi come al solito fatemi sapere nei commenti se avete problemi grazie del continuo supporto e se vi è piaciuto questo video e il progetto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i futuri aggiornamenti anche perché vi anticipo che a breve ci sarà un grosso aggiornamento per quanto riguarda Inazuma Eleven Ghost Strikers quindi spero vogliate supportarmi ciao a tutti grazie a tutti